Ciao a tutti, se sei un coach o un personaggio che vuole diventare un coach, un hipnotista o un personaggio che vuole diventare un hipnotista, queste tecniche, e quello che ti ho raccontato oggi, sono importanti per te. Io mi presento, mi permette di presentare, mio nome è Marco Paret, faccio caos con tecniche molto uniche in tutto il mondo, ero in Sud America, ero in Australia, in Indonesia, in USA, anche in Russia, e perché ero? Perché le persone erano fieri di imparare le mie tecniche. Ho anche persone venivano ai miei corsi internazionali, nel passato in Nice, ora in Roma, dove ho insegnato e guidato loro per imparare il mio modo di aiutare altre persone usando tecniche nonverbali. Cosa significa utilizzare tecniche nonverbali? Io anche conosco molto bene tecniche verbali. Sono stato uno dei primi in Italia, i primi 4 di usare NLP, ma ho anche un'altra tradizione, che è lavorare su quello che abbiamo più importante in noi, il corpo, ma non lavorare fisicamente, perché il nostro corpo si esprisce anche per la comunicazione nonverbali, ma possiamo essere in contatto anche con i ragazzi, con molti elementi, possiamo influenciare gli altri. L'influenza della comunicazione nonverbali è 90% in ogni comunicazione, quindi le parole sono molto importante, ma la comunicazione nonverbali può portare al prossimo livello. Voglio dire che c'era un healer, un healer italiano che aveva 3 ruumi dove ho trovato i pacienti. Il primo ruolo era parlare con le persone, il secondo ruolo era parlare con loro, il secondo ruolo era parlare con una terapia, una terapia verba, ma il terzo ruolo era silente. E in questo ruolo avevano i cambiamenti più potenti. Quindi, possiamo dire che possiamo usare le parole, e questo è il secondo ruolo, ma il terzo ruolo è quello che insegno. E ho avuto molti nomi, anche in ipnoterapia, che seguono i miei corsi, perché i miei corsi vogliono imparare questa tecnica. Quindi i miei corsi non sono solo per le persone che vogliono iniziare, ma anche per le persone che sono già esperienze. Alcune persone dicono, ma sono già molto esperienze. E' come quando insegno di ruolo, magari sai come ruolo. E' buono, sei già forte, ma il ruolo è diverso, e quindi lavorerai in un modo diverso. Quindi, imparare non verbale, impariamo la fascinazione. La fascinazione, l'ho introdotto alla fascinazione da Virgilio. Virgilio era l'ultimo di una tradizione perdita di fascinatore. L'ultimo. E lui ha ipnotizzato solo con un guardia. Un amico di me ha detto, ah, c'è una persona che ha ipnotizzato solo con un guardia. Non ho trovato nessuna ricerca sui libri. E in realtà alcuni libri dicono, non ho bisogno parlare. Non, non ho bisogno parlare. Puoi anche creare un stato di spazio solo con un guardia. E voglio dire che creare questo stato di spazio solo con un guardia, è naturale. Perché anche animali possono capire altri animali solo con un guardia. e anche se stai in fronte del mirro. Se stai in fronte del mirro, tentate di non spazio, potrai vedere che dopo un po' tempo, ti entriamo in un stato specifico. Quindi, anche senza parlare, possiamo in questo stato con fascinazione. Dopo, possiamo parlare. Ma la maggior parte, non bisogna parlare o non bisogna parlare. E la persona entra in una trance in una trance, perché, perché, io sempre parlo di una base scientifica, potremmo dire che l'homunculus, significa la superficie del cervello occupato dai diversi organi, i occhi sono molto importanti. Quindi, occupiamo il senso della visione e possiamo portare la persona in un stato negativo. Quindi, ho imparato questa tecnica da Virgilio, e dopo, da molti altri maestri, che mi ha parlato di exercice di avere più energia, carisma, perché, in qualche modo, per avere le capacità potenti, devi imparare di sviluppare carisma. Quindi, ho portato anche un insegnamento del carisma, del magnetismo personale, che è anche buono per tutto, per la tua vita, per le persone che ti conoscono, per lavorare con il tuo cliente, perché il magnetismo personale è diverso, per esempio, per un NLP, perché il NLP è basato su parlare, il magnetismo personale è basato su comunicazione non verbale. Puoi parlare molto poco, ma hai un magnetismo personale. Cosa è, come ti senti? ma la persona dirà, io sento una sensazione, io sento che questa persona ha qualcosa. Quindi, questo è il magnetismo personale. E, praticamente, si funziona molto bene con la fascinazione e si contiene anche con il magnetismo. Il magnetismo è il potere delle mani, ma anche qui, io voglio dare una fisiologica esplanazione, perché, cosa succede? In questo caso, ci attiviamo il sistema nervoso parasympathico. Significa il branchio parasympathico del sistema nervoso. Cosa significa? Significa che, in qualche modo, c'è un elemento fisico dietro il lavoro che facciamo. Perché questo movimento parasympathico che facciamo vicino al corpo attivano il corpo in una forma specifica. E questo può essere molto utile per aiutare le persone per lavorare anche sul campo psicosomatico. Quindi, possiamo, con il magnetismo mixato con la fascinazione e mixato con il magnetismo attraverso un lungo spazio. Io faccio anche altre tecniche. Io, per esempio, faccio l'energetico constellazione una tecnica che wakese la persona. Perché? Non è una constellazione è diverso. Perché possiamo dire che la constellazione potrebbe essere un caso specifico energetico perché lavoriamo con l'energia. Cosa significa? C'è ogni emozione è l'energia. C'è ogni elemento che sentiamo. E dopo le mettiamo in quello che chiamiamo il campo di morphe. E dopo portiamo ogni energia al livello di quantum. E dopo possiamo avere una crisi. Una crisi. Io lavoro parlo di mesmeri. Guardate i miei video e vedrai molte crisi. E queste crisi sono un modo in cui il corpo si ferma. E queste due possono essere esplicate in un modo scientifico. C'è la teoria polivagale che explica il fatto che c'è diversa attivazione delle nervi. E vorrei dire che queste tecniche con il giovane e con la magnità con l'activazione con il corpo sono ancora forti che le tecniche che normalmente sono fatte con la teoria polivagale perché in realtà usiamo alcuni elementi più, per esempio il giovane. Quindi l'energetico constellazione tra le persone per trasformare loro. Quindi vedete dopo ho spesso che ho provato qualcosa più di quello che trovo di generale. E posso dire che che posso dire che ho portato più persone e credo che altre scuole diventa davvero professionale in questo tempo. e io aiuto le persone a ottenere il loro self genuino, il loro self reale e questo è molto importante se vuoi sviluppare una pratica professionale perché puoi spendere l'argento, spendere l'argento in adverso, ma se non sei unico, non otterrai nessun risultato perché la persona sull'interno può spendere il stesso dinero e quindi è un lato mai finito se non sei unico e potrai imparare con queste tecniche se vuoi trattare il tuo self genuino quindi se sei unico, hai un brand natural potremmo dire un brand natural che permette a te di essere unico ho incontrato una persona, un'altra persona che tra i miei amici è lo stesso che altri amici? nessuno, perché se siamo noi, siamo unici quindi tu sarai unico anche nel ambiente professionale e continuiamo un po' sulle tecniche che faccio io voglio parlare dell'origine perché devo andare al suo genuino? perché in India ci sono tecniche che passano a un livello anche in Cina ma anche in Europa c'è una tradizione e una tradizione e una tradizione e ho studiato questa tradizione che è molto collegata con il simbolismo e con le altre pratiche per aiutare le persone ad arrivare al suo reale e al stato che noi chiamiamo supracore scienze quindi questo è qualcosa come vedete che può davvero beneficiare in ogni campo della tua vita e puoi solo seguire la nostra scuola per diventare molto esperti e per ottenere grandi risultati nel tuo lavoro puoi aprire una pratica hipnoterapeuta solo con quello che apprendete nella nostra scuola e non solo la pratica hipnoterapeuta puoi lavorare o vedere un'ostellazione energetica puoi lavorare con il magnetismo ci sono diversi diretti che puoi fare e puoi anche avere accesso a alcune tecniche secriche perché in realtà ho molto l'idea di avere un contatto maestro con disciplina questo per me è molto importante quindi ho cercato di rispondere a ogni persona ho cercato di stare a ogni persona già nel video quando facciamo zoom e dopo quando siamo insieme io ho imparato con una relazione maestro disciplina io credo che dobbiamo avere relazioni quando lavoriamo insieme questo è l'unico perché cambiare e dopo poi arrivi a un livello in sua profession ti invito a avere informazioni se non non fatto la domanda che devono essere qui sotto voglio dire anche che tra i studenti che ho formato ci sono una comunità quindi è possibile cambiare un gruppo di persone che cercano e quindi puoi andare ancora quindi questa tecnica cambia te perché ti aprenderà molte tecnica per cambiare e per trasformare te e possono cambiare altre e possono dare un livello professionale success io invito a guardare anche il mio YouTube e dopo aver avuto il mio questionario sarò molto felice di conoscere in una di mie domani grazie per l'attenzione e spero che ci vediamo presto